Noi oggi ci troviamo a discutere della costituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria e del mancato aggiornamento del piano della pandemia nazionale, pandemico nazionale. L'ho voluto ripetere, Presidente, perché alla luce degli interventi che mi hanno preceduto, io credo che in qualche ascoltatore magari può venire il dubbio di chissà quale colpo di mano, di chissà quale atto d'arroganza o di dispetto istituzionale si macchia questa maggioranza. A noi questa costituzione della commissione non ce l'ha chiesta l'Europa, non ce l'hanno chiesta i poteri forti, ce l'ha chiesta la gente, la coscienza, la volontà di fare chiarezza in un momento estremamente complicato, difficile, dove molte cose non sono state chiare. La madre di tutte le domande è che se è andato tutto bene, è andata tutta bene la gestione della pandemia? Noi pensiamo di no, pensiamo di no perché ci sono molte zone d'ombra e diciamo che come forza politica è stato ricordato in precedenza, noi sin da subito ci siamo sottratti a quel processo di beatificazione di San Giuseppe Conte da Casalino. Ci siamo sottratti immediatamente perché ci era abbastanza chiaro che l'accelerazione sul divieto dei diritti, sulla compressione dei diritti democratici era troppo forte, mal gestita e soprattutto mai condivisa da un punto di vista parlamentare. Ancora Ancora Ancora